Amici bentornati, siamo di nuovo qui, vi porto di nuovo sul set di uno dei miei ultimi shooting fotografici. Vi presenterò uno shooting abbastanza variegato che si è svolto all'interno di una bottega storica nella provincia di Milano. Bene, eccoci qui. Cominciamo a parlare un attimino del cliente. Come vi dicevo si tratta di una bottega storica, quindi un'attività aperta da più di 50 anni che si trova sul territorio della provincia di Milano. Stiamo parlando di un negozio di abbigliamento che vende capi abbastanza pregiati. Non stiamo parlando di Primark, ecco. Stiamo parlando di capi che diciamo partono dai 200 euro per arrivare anche ai 1000, più o meno, con le dovute eccezioni. Quindi non è assolutamente una bottega cinese, è una bottega che vende soprattutto made in Italy di qualità parecchio alta. Ovviamente come tutti e soprattutto a causa della crisi, anche questo esercizio commerciale ha dovuto trasferire gran parte della sua attività online. Per questo motivo è stato realizzato un e-commerce dove di volta in volta, col susseguirsi delle stagioni, vengono caricati i nuovi prodotti, i nuovi arrivi, i prodotti per la nuova stagione. In questo caso stiamo parlando ovviamente della stagione autunno-inverno del 2021. Quindi è stato commissionato lo shooting prevalentemente per realizzare gli scatti per l'e-commerce, quindi sono delle foto di capi fotografati sul manichino con lo sfondo bianco che andranno sull'e-commerce. Quello che mi interessa di più farvi vedere sono le fotografie degli interni del negozio e le fotografie realizzate con delle ragazze e dei ragazzi che si sono prestati a posare con i capi indossati. Ovviamente lo scopo di questo shooting è prevalentemente la diffusione digitale del messaggio siamo aperti, vieni ad acquistare. Quindi è uno shooting prettamente commerciale, si tratta di mettere in luce i punti di forza dei prodotti venduti dal negozio e far vedere alcuni indossati per una comunicazione istituzionale sul sito web e sulle piattaforme social dedicate. Per lo shooting impieghiamo tante camere diverse. Prima di tutto il mio famoso muletto, ovvero la Canon EOS 700D su cui ho montato il 50 mm f1.4. È una combinazione che mi piace particolarmente perché così io sto usando un 50 mm che però diventa un 80 mm. A me il 50 mm non piace, non mi piace come lunghezza focale. Lo trovo, scusate il termine, a tanti piacerà, ma lo trovo sbagliato per quello che faccio io. Nel senso che il problema che hanno tutti col 50 mm non è abbastanza aperto per fare gli interni, non è abbastanza chiuso per fare i ritratti. È quella eterna via di mezzo dove non riesci a fare bene nessuna delle due cose. E non riesci a farle bene in assoluto. Perché se io sto fotografando degli interni con un 50 mm non ce la farò mai a indietreggiare abbastanza da fare la foto che voglio. È veramente impossibile, non è la lente giusta. Parimenti se io voglio fare dei ritratti è vero che posso avvicinarmi, però avvicinandomi innanzitutto diminuirà la profondità di campo. Quindi io in questo caso non voglio avere la profondità di campo di un millimetro solo sull'occhio, perché non sto facendo quella roba lì. E se stessi facendo quella roba lì userei un 85 mm, non un 50. Non sto facendo quella roba lì, io voglio che si veda abbastanza tutto bene a fuoco. Quindi se mi avvicino devo chiudere il diaframma, quindi mi ritrovo con una lente buia, quindi non ho nessun vantaggio di avere un f1.4. Inoltre avvicinandomi accentuo la distorsione, perché il 50 mm ne ha ancora di distorsione. Per non averne più bisogna andare sopra l'85. Quindi è proprio una lente con cui io non mi trovo. Tuttavia montata su un sensore APS-C diventa un 80, quindi si avvicina a una delle mie lunghezze focali preferite in assoluto, che è l'85 mm. Quindi così sì che mi trovo bene. E allora improvvisamente posso usare questa combinazione per realizzare dei ritratti ambientati. Utilizziamo delle luci montate su stativi, in particolare abbiamo delle torce flash gotox con ombrelli traslucidi, che sono della serie SK402. Quindi delle luci flash abbastanza inexpensive, sono fondamentalmente gli entry level, però performano veramente molto bene. Se non si devono fare cose particolari, se non c'è la necessità di fare raffiche prolungate, perché è quella la debolezza di queste luci, performano veramente molto bene. Si fa lo scatto, si aspetta il tempo di buffer con cui si ricarica il flash e si continua a lavorare anche per tutto il giorno. A me è capitato con queste torce di lavorare per tutto il giorno. E per tutto il giorno intendo dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, senza interruzioni, togliendo la pausa pranzo, vabbè concedetemela la pausa pranzo, senza interruzioni, scattando continuamente, si aspetta il tempo di ricarica del flash, si lavora serenissimi. Quindi ottimo setup, consigliatissimo. Per quanto riguarda invece le foto di interni, ho utilizzato la mia fida Canon EOS 5D Mark II con il 17-40mm, o era il 16-35mm, non mi ricordo più. Probabilmente era il 17-40mm, perché ho lavorato sul cavalletto e quindi non avevo una vera necessità di avere lo stabilizzatore e anche quel millimetro in più di apertura non mi faceva la differenza, perché comunque 17mm è tanto, cioè si riesce a lavorare bene con un 17mm quando si scattano interni, tant'è che la serie Canon ha fatto il 17mm tilt e shift che serve proprio per questo, quindi hanno scelto proprio quella lunghezza focale. Le foto di interni, come vi dicevo, sono state realizzate su cavalletto, ovviamente bracketing, ovviamente due stop, ovviamente poi post-produzione per unire i tre file che ne derivano. In questo caso non era assolutamente necessario, perché gli interni sono molto caldi, molto luminosi, quindi non c'era una vera e propria esigenza di fare l'HDR. Poteva venire un ottimo risultato anche senza, però se state seguendo questo canale da un po' saprete che io voglio, ripeto voglio, fare quel qualcosina in più per fare la differenza. Questa è una cosa che si può fare per fare la differenza. Ovviamente ci sono altre cose, scegliere l'inquadratura, la composizione, studiare, perché avere dei punti di vista sempre nuovi da proporre al cliente è un po' la chiave, molto più che i cavilli tecnici, però avere delle basi tecniche solide, metterle in campo ogni volta, male non può fare, perché stiamo comunque facendo un lavoro che è di un livello superiore rispetto a un nostro competitor che va l'IF a pum 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 e porta a casa quattro immagini. Stiamo facendo un lavoro di livello assolutamente superiore e dobbiamo continuare a farlo. Ricordatevi che aver imparato una tecnica non significa metterla in saccoce e lasciarla lì, significa che da quel momento in poi la si applica sempre in tutti gli shooting. Vi ricordo sempre questa cosa, a me è capitato di lavorare non direttamente per Canon, però mi è capitato di lavorare come promoter Canon all'interno di un altro punto vendita, che era la FNAC di Via Torino nella fattispecie. Mi è capitato di lavorare per un'agenzia che gestiva i promoter per Canon e quindi c'è stato fatto un corso di formazione direttamente da Canon che ci ha spiegato come funzionavano alcuni dei loro prodotti dell'epoca. Ovviamente sono passati diversi anni ormai. Quello che mi ha colpito in particolare è stato apprendere come Canon distribuisce le proprie tecnologie all'interno della filiera produttiva, ovvero nel momento in cui Canon brevetta una nuova tecnologia, che può essere lo stabilizzatore ottico così come può essere un'altra cosa, così come può essere il dual pixel, la tendenza è quella di dire va bene, ho questa nuova tecnologia, è mia, l'ho sviluppata io, l'ho brevettata io. Che cosa faccio? Realizzo l'ammiraglia e metto questa tecnologia solo lì e tutti gli altri si attaccano? Ovviamente l'ammiraglia avrà qualcosina in più, avrà materiali migliori, avrà delle performance più alte, però nel momento in cui loro tirano fuori una nuova tecnologia la tendenza è di applicarla su tutti i prodotti, ovviamente dove possibile, ovviamente con le dovute eccezioni, perché ovviamente non è che si può mettere la stessa cosa che c'è sull'ammiraglia su tutte le camere comprese le compattine, però nel momento in cui arriva una tecnologia nuova per stabilizzare le immagini la vedremo probabilmente applicata non solo sulla miraglia ma su un'ampissima gamma di prodotti. Il ragionamento che faccio io è un po' lo stesso, quando impariamo una cosa non è che poi la tiriamo fuori dal cilindro solo una volta ogni tanto, quella cosa che abbiamo imparato potrebbe fare la differenza nel contraddistinguere il nostro lavoro da quello dei nostri competitor, per cui lo mettiamo in campo tutte le volte. Anche qui, anche noi facciamo le dovute eccezioni, perché è evidente che se stiamo fotografando il compleanno o la cresima del nipotino di un nostro amico magari non facciamo fotografie strabilianti utilizzando l'HDR e 20 torce flash in quella situazione. Lì magari non ce l'hanno neanche chiesto, stiamo facendo due scatti così tanto per, in quel caso ci sentiamo sereni di fare due foto così come vengono, un pochettino più naturali, un pochettino più spontanee. Ci mettiamo comunque la testa per trovare la composizione migliore, quindi non è che rinunciamo a tutto quello che sappiamo solo perché siamo in un contesto differente e il nostro bagaglio viene sempre con noi. E a questo proposito, parlando di ritratti, come vedete da queste immagini, il mio bagaglio di esperienza nella fotografia di interni mi segue anche quando scatto dei ritratti, perché come vedete ho optato per un contesto il più pulito possibile, il più privo di distrazioni possibile. Infatti ho trovato un accrocchio in mezzo a due armadi, era una posizione, ve l'assicuro, veramente scomodissima sia per me sia per le persone che hanno lavorato con me, tuttavia ha consentito di portarci a casa delle immagini assolutamente pulite, senza fonti di distrazione dietro. Questa è una cosa a cui sono arrivato dopo diversi shooting in questo negozio, perché non è il primo che faccio, sono ormai alcuni anni che lavoro frequentemente per questo punto vendita e alla fine di tanti shooting sono arrivato a questa conclusione che è meglio eliminare gli elementi di distrazione dietro, quindi piuttosto che far vedere la boutique, piuttosto che far vedere un allestimento dietro che distrae dal capo che stiamo guardando, è meglio isolare il capo che stiamo guardando trovando una soluzione come questa. Era un angolo, questo qui è un corridoio ad angolo in mezzo a questi armadi di legno, era veramente scomodo per me perché io stavo al limite, avevo la testa mezza dentro e mezza fuori da dietro l'anta di un armadio, quindi ero mezzo nascosto dietro e scattavo attraverso. Tuttavia questo mi ha consentito di realizzare questa inquadratura e come vedete ho cercato di mantenere le linee verticali più dritte possibile. Questo si fa in fotografia di architettura, si fa un po' di meno in ritrattistica perché quando si fa un ritratto si tende a stortarla un pochino per favorire le linee naturali della fisicità del soggetto. In questo caso io non l'ho voluto fare per due motivi, il primo è che non sto facendo un ritratto per la persona ma sto facendo un ritratto per l'indossato, quindi non mi concentro tanto sulle fattezze della persona ma mi concentro sull'indossato sulla figura, quindi è una cosa proprio diversa. In secondo luogo, siccome io so benissimo che queste immagini poi andranno non tanto sul sito web ma andranno nella comunicazione social, quindi andranno prevalentemente nelle stories. Vedete che io parlo sempre male del formato portrait ma lo uso quando serve, non mi piace, non piace a me, se posso evitarlo e farla orizzontale ed è la scelta migliore preferisco, ma se non è la scelta migliore ed è meglio lavorare in verticale lo faccio e non lo faccio neanche a malincuore perché so che è la cosa giusta. In questo caso ero obbligato perché orizzontale non ce la facevo, stavo comunque scattando con un 80 mm quindi dovevo stare molto indietro per prendere il piano americano o addirittura la figura intera, quindi ho fatto un po' di fatica a trovare la giusta distanza perché lo spazio era quello, quindi ho dovuto proprio addossarmi alla parete per avere le proporzioni giuste. Come vi dicevo io sapevo benissimo che queste immagini sarebbero finite prevalentemente in una comunicazione social, quindi stories di Instagram e di Facebook banalmente. Per questo motivo tendo a tenere le linee dritte perché in questo modo quando le foto verranno rifilate, perché io sto scattando un formato 3x2 che non è il 1080x1920 delle stories, quindi verrà ritagliata la foto, verranno tagliati un po' i margini per tenere solo la figura al centro. Quando questo succederà le linee che io ho fatto sono dritte, per cui se si vedranno delle linee degli armadi dell'architettura dei muri, se si vedranno delle linee verticali nella story saranno parallele ai bordi del monitor, quindi non stoneranno, non avremo quell'effetto di linee storte che divergono in alto e in basso. Questo è da tenere a mente quando si realizzano cose per i social perché comunque la resa finale è importante e non possiamo dimenticarci dove finiranno le foto che stiamo realizzando. Le difficoltà sono state quindi prevalentemente queste, da un lato avere il negozio in ordine e trovare delle angolazioni corrette per realizzare le foto di interni, dall'altro lato la difficoltà maggiore in assoluto è stata sicuramente quella di incastrarmi fra i due armadi per scattare delle foto con l'85 mm a mezzo busto, quindi distanza che non era esattamente ottimale. Inoltre ho dovuto ingegnarmi per incastrare la mia torcia flash con l'ombrello traslucido in maniera tale da averla posizionata abbastanza vicino alla modella o al modello, da illuminarlo correttamente, ho dovuto anche ingegnarmi per togliermi i bagliori che entravano in camera perché avevo una luce parassita che mi entrava in camera direttamente dalla torcia. In questo caso usando l'ombrello traslucido non avevo portato con me il diffusore, quindi la lampadina era sostanzialmente nuda. Ora se in un primo momento per scattare gli still life avevo scattato attraverso l'ombrello perché avevo lo spazio per farlo, quando ho realizzato gli scatti con le modelle, gli scatti con l'indossato, ho dovuto girare l'ombrello, quindi scattavo dentro nell'ombrello e il riflesso dell'ombrello illuminava la mia scena perché non avevo spazio per fare il contrario, dovevo allontanare il diffusore dalla modella dal modello, altrimenti sarebbe venuta sovraesposta, avrei dovuto fare delle scelte che non mi andava di fare, quindi ho preferito girare la torcia. Questo mi metteva però nella condizione di avere la lampadina nuda e la lampadina nuda manda una luce che spesso si trasforma in un flare, in una luce parassita che rovina le nostre immagini. Ho aperto l'anta di un armadio che mi ha oscurato la luce parassita dalla mia camera, ovviamente questo che cosa ha comportato? Che dovevo stare ancora più scomodo a fare l'inquadratura, dovevo andare ancora più indietro e stare ancora più attento alle linee. Il risultato finale come vedete è venuto fuori abbastanza bene direi, quindi ne è valsa assolutamente la pena, ovviamente a costo di un bel mal di schiena perché tra montare e smontare manichini per gli still life e stare piegato a metà per tenere le linee dritte durante questi scatti vi assicuro che a sera la mia schiena non mi parlava più. Ma noi parliamo un attimo di post produzione invece, qui la post produzione è stata assolutamente semplice e lineare, ho semplicemente applicato il mio solito preset per la nitidezza, non ho dovuto fare granché di altro, qualche correzione locale sia sugli still life sia sui capi di indossato per il semplice fatto che avevamo dei capi neri e dei capi bianchi e avevamo sia dei capi che assorbivano la luce sia dei capi che invece la riflettevano, quindi in quel caso lavorando in manuale io so benissimo che quando mi arriva un capo bianco devo diminuire magari di uno stop e so benissimo che quando mi arriva un capo di un determinato colore devo fare magari una correzioncina, però a seconda di come si mette la modella, a seconda di come il capo riceve la luce può riflettere in un modo diverso, quindi io non sto a guardarmele tutte, tanto sono conscio di aver fatto le mie correzioni, so che sto in un range che è poi sistemabile in RAW, quindi in questo caso trattandosi veramente di uno shooting lungo dove sono coinvolte tante persone, dove ci sono tanti scatti da fare, io sono consapevole che se c'è un pelino da sottesporre, un pelino da sovresporre posso cavarmela in post produzione ed è una minoranza, quindi non è che me ne sto fregando, non è che sto delegando a photoshop, faccio la mia correzione, quindi la luce non è bruciata né sulle alte luci né sulle ombre, è sempre più o meno corretta perché la mia correzione di uno stop la faccio, tuttavia magari avrebbe dovuto essere uno stop e mezzo, avrebbe dovuto essere due terzi di stop, non vado così nello specifico perché un terzo di stop lo si sistema sul RAW e le foto sono belle finite pronte così, quindi preset su tutte quante, la luce è già pressoché giusta, correzioni locali su una decina di foto su 80 hanno bisogno di una correzione locale magari sulle alte luci o sulle ombre e questa è la post produzione per gli indossati. Per quanto riguarda la post produzione per le foto di interni, ancora più semplice, siamo sempre lì, abbiamo scattato in bracketing, quindi facciamo merge to HDR, tiriamo fuori una fotografia che ha già le impostazioni automatic, quindi andiamo a fare due correzioni locali, io di solito quello che faccio è che quando si fa il merge to HDR con photoshop, lui di default ti mette un pochino di contrasto, ti mette un più 7, più 6 di contrasto, io quello lo vado a togliere perché il contrasto è vero che mi fa venire un pochettino più fuori certi dettagli della foto però va contro a tutto quello che sto cercando di fare usando l'HDR, quindi la mia gamma dinamica io voglio mantenerla, non voglio né che mi bruci le luci né che mi bruci le ombre, quindi quel contrasto lo vado a togliere. Poi se proprio ho voglia magari vado a dargli un più 8 di clarity e gli vado a dare un più 10, più 15 di vividezza, questa è la post produzione per le foto di interni, basta, perché le linee verticali le ho già mantenute dritte in fase di scatto, quindi non serve nient'altro. Le foto vengono come sempre consegnate via protocollo FTP, quindi in questo caso ho utilizzato WeTransfer perché siamo sotto la soglia di allarme dei 2 giga, le foto non erano tantissime, è bastato mandare un semplicissimo WeTransfer, le immagini vengono ovviamente consegnate in formato JPEG, ho utilizzato come sempre il profilo colore Adobe RGB 1998 perché non si sa mai che poi debbano anche essere stampate, così in questo modo possono essere convertite agevolmente in sRGB. Se le avessi consegnate direttamente in sRGB a qualsiasi utilizzo non digital, per qualsiasi utilizzo di stampa avrei dovuto fare un secondo export, invece così diciamo che me la smazzo più facilmente. Foto preferite in questo shooting io non ne ho anche perché non voglio fare torto a nessuno, ma perché continuate a farmi questa domanda? Foto preferite vi posso sicuramente dire che ci sono delle foto di interni molto belle ma perché è la boutique che si presta molto, quindi essendo un esercizio storico della città di Milano si presta molto, è molto bella, molto caratteristica dentro. Tuttavia io credo che come foto preferite questa volta vi darò qualche indossato, sia perché ci sono delle belle ragazze quindi tanto vale che io propenda per una foto un po' più vivace piuttosto che per la solita foto di interni e sia perché comunque è un qualcosa che non vi faccio vedere spesso, quindi oggi come foto preferite vi do queste tre. In conclusione vi posso dire che scattare per una boutique di abbigliamento è un lavoro veramente pesante. Sì sì, lo so che non lo direste mai ma è veramente faticoso. Perché dover continuamente vestire e svestire i manichini, ovviamente questa è una cosa che non faccio da solo, vengo ovviamente assistito dai proprietari, dal personale, però è una cosa comunque un po' pesante perché si tratta di mettere su sul manichino e togliere dal manichino, mettere su, scattare, togliere e il prossimo capo. Vi assicuro che a fine giornata la schiena non risponde bene a questo tipo di sollecitazione, anzi probabilmente non vi parlerà più per un paio di giorni. Bene, a questo punto, ma voi già lo sapete, io sono ormai obbligato a invitarvi a lasciare un like a questo video e mettere un commento e mi raccomando iscrivetevi perché altrimenti vi precludete la possibilità di godere di altri contenuti meravigliosi come questo che avete appena visto. Sto scherzando ovviamente. Extra, qui sono sempre in difficoltà, una cosa che posso condividere con voi è questa, non vi arrendete di fronte alle difficoltà. Durante questo shooting mi è capitata una difficoltà piccola per carità, trascurabile, si è rotto l'ombrello, l'ombrello traslucido che è un ombrello della Newer che ho preso su Amazon, costava niente, quindi lo sto usando con profitto perché l'ho pagato veramente una cavolata, si è rotto. Si è rotto, però io ho pensato, ok, come risolviamo questa cosa? Cioè come, non se. E mi son detto, aspetta un momento, in questo negozio fanno anche gli orli, fanno anche gli aggiustamenti dei vestiti. Sono andato dai proprietari e gli ho detto, scusate un momento, ce l'avete ago e filo? Aggo e filo, track preso, mi son messo lì, ho fatto la sartina e ho riparato l'ombrello, ovviamente è una cosa di fortuna perché ho riparato l'ombrello facendo su un accrocchio, io non sono un sarto, non so cucire, però mi sono messo lì, ho preso un filo bianco, così non c'era neanche il problema, tanto non avrebbe creato problemi neanche fosse stato nero o colorato, tanto piccolo era, però filo bianco, così anche elegante non si vede, ho fatto la mia cucitura, ho riparato l'ombrello, ci ho messo 10 minuti perché non so cucire, un sarto ci avrebbe messo 30 secondi. Non vi arrendete di fronte alle difficoltà perché anche quando vi si rompe qualcosa c'è sempre una soluzione e vi porto un altro esempio, questo non ditelo in giro però, mi è capitato durante uno shooting qualche giorno fa di avere il mio trigger, non rispondeva più, il trigger della Godox di cui non mi sono mai dovuto lamentare, aveva probabilmente un'ossidazione dei poli quindi non leggeva più bene le batterie, non funzionava più. Ok 0,7 secondi di panico totale, ve lo garantisco, però tiro fuori il mio flash speedlight, lo monto sulla camera e mi dico, la torcia Godox funziona in modalità slave? Sì funziona, metto la torcia in modalità slave, metto il mio flash speedlight a un sessantaquattresimo, quindi potenza minima e tac, il mio flash a slitta funziona da trigger per la mia torcia, tutto sistemato, basta non perdersi d'animo. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.